Fere, hai visto? Tec ha preparato la ruota della fortuna nel server e mi hanno attaccato, mi hanno attaccato in questo momento. Ovviamente ci deve rovinare il momento. Grazie per avermi rovinato il momento. Vado senza di te, Steph. Vado. Fere, Fere, no. Vado. No, andiamo. Sei pronta? Sì. 3, 2, 1, via. Ma ha fatto nesso la te, porca miseria. Non potevamo farla in contemporanea. Eccomi, guarda che spettacolo. Entra, 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 entra. Sai che ci dobbiamo sfidare, vero? Lo so, lo so bene. Hai paura, Fere? No, per niente. Ti massacro, sapilo. Preparati perché ti massacro letteralmente. E ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki. E sono Steph, che si giochiamo a Minecraft. Benvenuti in un nuovissimo episodio della Pixelmon. E oggi giocheremo alla ruota della fortuna che ha creato Tec. Ma prima, Steph, ovviamente, leggiamo anche le regole. Mi sembra giusto. Ok, Fere. Allora, sono carichissimo e non vedo l'ora di sfidarti. Funziona così. Noi dobbiamo prendere 6 Parkwall a testa. Le Parkwall, Fere, devi sapere che sono come le Master Ball. Quindi, se compare un Pokémon, le catturi al 100%. Benissimo. Quindi, il punto 1 è molto semplice. Dopodiché, a turno, dobbiamo azionare la ruota. Catturare il Pokémon casuale che comparirà tramite la ruota. Dopodiché, prendere 6 Pokémon a testa. Quindi, dobbiamo avere una squadra per intero. E iniziare la battaglia. Ovviamente, quando finiamo, dobbiamo liberare tutti i Pokémon che abbiamo catturato. Ok, ok. Dato che, altrimenti, sarebbe imbrogliare. L'altra cosa interessante, Fere, è che abbiamo due modalità. La prima è il Pokémon casuale, con il livello 50. La seconda è il Pokémon casuale, con il livello casuale. Ti spiego. Tu, ogni volta che aprivi il bottone, hai un Pokémon a caso. Lo puoi fare sempre di livello 50 per avere una sfida più bilanciata. Oppure, Pokémon che possono essere all'1 e al 100. Quale vorresti fare tu? Io direi di fare quella un po' più bilanciata. Puoi andare sul sicuro? Per provare la ruota, mi sembra giusto averli tutti di livello 50 e fare una sfida abbastanza la pari. A me intriga parecchio mettere ancora più fortuna in mezzo, eh. È divertente. Dai, facciamo quella. Tanto ho capito che vuoi fare quelle che non senti i ragioni, Stef. Grazie, Fere. Allora, come prima cosa, penso che andrò a depositare tutti i miei Pokémon, perché ovviamente devo avere tutto lo spazio libero. Sì, però devi avere anche dello spazio libero nell'inventario e io mi sono appena accorto che non ne ho, quindi... Ah, no, io ne ho, io ne ho, io ne ho. Adesso vado qua e butto qualcosa di inutile, tipo una pala di pietra, direi che non mi serve a troppo. Ok, faccio così, quindi ha detto sei Park Ball. Una, due, tre, quattro, cinque, sei. Te li fa depositare tutti e sei per fare i Pokémon? No. Vero? Ne puoi depositare solo cinque? Sì. Ok, come pensavo. È normale, perché devi sempre avere almeno un Pokémon. Vabbè, allora dopo che ne catturo uno, poi mi vado a depositare lì, perché mi è rimasto e così via. Quindi, imposto Pokémon casuale, livello casuale? Sì. Vado? 3, 2, 1, inizio io. Però non ho preso le Park Ball, Steph. Vabbè, vai a prenderti, intanto devo catturarlo io il primo. Ah, eccole, perfetto. Ok, livello 34, quindi ho avuto abbastanza sfiga, immagino. Carino, Pokémon ed erba praticamente di sicuro, non è male e ovviamente lo devo andare a prendere. Quindi, catturo lui. L'hai vista almeno, Fere? O eri troppo lontana? No, stavo prendendo le Park Ball, ti ho detto le devo prendere un attimino. Ti ho fatto tutto di testa tua, Steph. Guarda, si chiama Carnivine, Fere. Non so come si pronunci. Vabbè, che fail, Steph. Si chiama... Ok. È carino, dai, è carino. Però livello 34 non credo sia troppo forte. Ok, tocca a te, Fere, vai. Vado io? Yes. Vediamo che cosa ci capita. Guarda, lo vedi che poi fa tutto l'effetto con le luci? Guarda che spettacolo. Oh, è bellissimo. Uh! Livello 11! Però dai, che brutto sto livello. Malissimo. E direi che è malissimo. No, questo non lo inizia a depositare. Tocca di nuovo a me. E per ora per di più, Fere, non solo 34 11, ma anche erba acqua. Cioè, proprio peggio di così non potevi farlo. Cioè, è un Poliwag che comunque è carinissimo e che io adoro. Ma cavolo, il livello è davvero troppo basso. Vado? Vai. Allora, let's go. Vediamo cosa mi capita. Dai, Lucina, portatemi bene. Dai, qualcosa di bello. Ah, 25, però peccato. Eh, sì. Sì, 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 sì. Ah, potevi essere forte tu. Speriamo che abbia almeno terremoto. È l'unica mia speranza di spaccarti la faccia. Ok, vieni dentro, vieni dentro. Quindi un 34 e un 25 al momento. Dai. Non è male. Soprattutto Pokémon d'erba, Pokémon di roccia. Almeno sto iniziando a variare fin da subito. Vado. Not bad. Vai, vediamo un pochettino cosa capita a te. Attenzione. Ah, ho paura. Uh, 70. Qui sì che si ragiona. Qui sì. No, no, non voglio fightare. Ti prego, non mi attaccare. Ti devo catturare. Ok. Qui, Steph, inizia a tremare. Inizia a tremare. 70 è un bel livello forte. Eh, sì, sì, sì. Che tipo è? Tornadus. Tipo volante, Steph. Ok, ok. Allora ho bisogno di qualcosa di elettrico. Dai. Un po' di fortuna. Un Pikachu livello 99 potrebbe andar bene. Eh, certo, certo. Per toccarla piano. Dai. Dai, 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 dai. Ok. Che livello è? 36. 36. Bellissimo, però. Sì, ma non mi faccio nulla delle cose belle fare. È bello, però. Questa è una sfida di battaglia. Dobbiamo sfidarci, dobbiamo essere forti, ma... Oh, tu hai voluto il livello casuale, non romperi. Io avevo proposto di fare il livello 50 e fare una sfida almeno accettabile, Steph. Invece hai voluto rendere... Sì, ma sei tu che hai trovato il 70. Eh, ma te le tieni, Steph. Oh, ma... Oh. La stai facendo? Amico mio, ma la smetti? Dai, come hai fatto a rompersi la Pokéball? Eh, può capitare, può capitare. Vabbè, poi prendi un altro, ovviamente. No, vabbè, a sto punto ti mando lui addosso, poi faccio bag. Ma dimmi te se deve darmi tutti questi problemi sto qui. Vieni qua, vieni dentro, muoviti e non farmi perdere tempo. Si chiama comunque Gliscor. Ok. Immagino che non sia solo di tipo volante, fammelo vedere un attimo, perché almeno così capisco anche che cos'è. Comunque ho trovato il Graveler era a Lolan, infatti me lo immaginavo perché era un po' diverso. Ok, sì, 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 sì. Volante e roccia, immagino. Ok, Ferretto che inova te, io ne prendo un'altra Park Ball, dato che purtroppo mi ho rotta una. Ok, vediamo un po'. Mad... Beh, abbiamo compensato il livello 70 qua, eh. Sì, ma è il livello 8, Steph. Appunto. Il livello 8 e fa pure schifo. Ma poi che sta fatta? Va a beccare per terra? Magari ha fame, è pure tonto. Magari te li devi mangiare e diventa più forte. Guarda, lascio perdere. Ok. Posso già liberare il PJ, tanto sarei inutile anche in battaglia, penso che lo libererò già da adesso, Steph. No, non fare così. Vola via, piccolo PJ, vola, vola, che nessuno ti vuole. Dai, Steph, è una cosa ridicola. Beh, ma allora, un livello 8 è inutile, ok? Ma se tu hai il 70 al momento... Io gli spacco la faccia, io gli ti spacco la faccia adesso, Steph. Basta. Ma li vuoi lasciati tutti a priori, al momento non te ne servono neanche altri. A meno che io non trovo un altro livello simile al tuo. Io non gioco più. Io non ti sfido, eh. No, non ti sfido. Quanto è carina? Non ti sfido. E lo so che è carino. Quanto è carina. Magerna. Caninissima. Questa l'avresti voluta avere tu, eh. Ammettiamolo. Ok. Quindi, adesso abbiamo un 70 pari. E per il resto, allora, Steph è un altro in vantaggio. Perché ho dei livelli un pochino più alti. Allora, eh... Farema. Era pure un leggendario. Ho fatto l'achievement del leggendario, del mio primo leggendario. Dei nuovi leggendari, chi li conosce, Steph? Però è un leggendario. Cioè, pure il leggendario ti ha capito. Sei bellino. Ma dai, è livello 21. Oh, mi attaccare! Calmati! Sì, devo dire che ho avuto un po' di fortuna. Non lo sapevo, perché credo sia dell'ultima generazione. In ogni idea non l'avevo mai visto. Il discorso è questo. Mi sono fatto l'achievement del mio primo leggendario, facendo la ruota della fortuna. Ah, dove è finito? Eccolo qua. Fare. Eh. Non ti voglio più sentire, Steph. No, no, ascolta. Zitto. Ci ha appena scritto il gioco? Che ha spawnato un pokémon leggendario nel deserto. Eh, lo so. E tu hai ancora la Master Ball. Lo so. Magari potremmo andare a cercarlo dopo. Ok, ok. Sei disperata per la sfida, tu? Sì, sono molto disperata anche perché praticamente quest'ultimo pokémon che ho preso, Grotl, non so se si dice così, ha attaccato i miei e mi ha già ucciso Poliwag. Ok, che è livello 11, ma avere già un pokémon morto. Bene, qua c'è il coso per curare. Lo so, ma lo faccio dopo, perché magari poi puoi rischiare che... Allora perché stai a fare la tragedia, porca miseria. Perché mi sta facendo venire ansia sta roba, basta. Vai, eh, uh, sei troppo bello, però al 15 diciamo che, sai, 25, 30, no? Tu non ti puoi lamentare di livello casuale. Oh, ma porca miseria, ma perché alcuni non si riescono a catturare? Eh, non lo so. Bag, pokeball, parkball, ok. Vediamo. Al 200! Mi attacca pure, mi attacca pure, hai capito? Beh, almeno ha voglia di combattere. Fai schifo, sei di livello basso e mi attacchi pure. Davvero, siamo seri. Sono sicuro di questo. La tua unica speranza, ok, è che io ritrovo un pokémon basso e tu trovi un altro 70. In quel caso credo che puoi ancora vincere. Oh mio Dio. Bene. Ok. Ah, questo è leggendario, quindi... No, c'è scritto boss, mi sa. Dai, qualcosa di bello per concludere. Un pokémon fuoco, voglio. A me piacciono i pokémon in fuoco. 12. Te lo meriti. Porca miseria. Te lo ho messo tutte le volte che mi... Si rompe anche la pokémon così in paio. Tutte a te si rompono, poi, eh. Tutte a te. Va bene, nel frattempo... Oppure è ancora lì, sì. Sì. Volevo fare il mio nel frattempo, ma poi ho paura che si bughi, quindi aspetto che lo catturi. Sto facendo un disastro per di più. Eh, lo so, notato. Porca miseria. Vieni qua. Vieni qua. Vai. Bag, pokéballs. Ok. Fare punizione a tirarla, tanto ormai è dentro la pokéball. Ok. Vediamo cosa capita a fare. Guardate lì dietro. Attenzione. Livello? 10. Sarà una sfida... Difficile. Allora, io vado di attacchi normali. Per andare abbastanza sul sicuro. Almeno una mossa recente. Più o meno, sì. Questa dovrebbe essere decente. Non so cosa fa. Mi hai diminuito le difese, Fere. Eh, sì. Molto utile, guarda. Perché non so bene che faccia. Non capito? Non le conosco. Ok, un po' ti ho fatto. Anche tu sei andata di take call. Mi sa che anche il tuo twig morirà breve, vero? Eh, anche perché poi ha solo... Ha solo take call. Vediamo questa. Eh, te l'ho già steso. Non ce l'ho fatta. Ok, ok. Il prossimo che livello è? Ha paura? Undici. Davvero? Eh sì. Ah, porca miseria. Ti è andata proprio male, Fere. Ti è andata proprio male. Ti ipnotizzo. Uh, mi ipnotizza. Adesso ti ipnotizzo. Sto dormendo. E stai dormendo. Così impari, dormi. Così la smetti. Ti posso picchiare un pochettino. Porca miseria. Facciamo water gun. Vediamo come va. Anche se non so se sarà... Infatti immaginavo non facesse praticamente danno. Non hai un attacco normale? No, solo quello di tipo fisico e tre di tipo acqua. A me ne sono capitati. Ma porca miseria. Eh sì. Cioè mi hai addormentato che era strabono e ti capita la sfiga. Ok, mi sono svegliato. Ok, ti do una sberla. Mi sa che ti ho mancato. Siamo seri. Davvero. Davvero. Dopo che ti svegli... E io ti riaddormento. No. Sì. Da. Così impari. E' l'unico mio modo di battermela, Steph. Non... Cioè abbi pietà almeno. Sì, ma... Abbi pietà. Così dorme e basta. Cioè guarda, ci metto la vita a farti danni. Cioè... Che cosa è ridicola questo combattimento. È davvero ridicolo. Non ti lamentare. Hai avuto sortuna e è colpa tua. Devo usare solo bubble. Perché è l'unica cosa che ti fa un pochettino di danno. Dimmi che ti svegli. Ok, te l'ho steso. Meno male. Vai, era cross. Ne abbiamo buttato già giù tre. Adesso livello 15, poi 21 e poi 70. Ok. Quindi pensa a cosa... Ok, mute. Ti morsico. Ti ho morsicato. E ti ho dato una bella sverla. Attenzione che forse era cross e vince di nuovo. Ok, no, è morta. Ovviamente eri troppo basso. Allora, io adesso ho Cicorita al 15. Quindi... E non sbuffare tutto il tempo. Beh, ho già perso tutti i Pokémon, ma ti sembra? Razorleaf. Vediamo quanto ti faccio. Io ti rimorsico. Critico. Critico. Quindi lo devo riusare. E tu mi hai schivato la spella. Vai, morsica! Bravo, bravo. Morsica a tutti qua. È ridicola sta cosa. Adesso non è più alto di livello, eh. Cicorita. Non va proprio bene. Cicorita. Non va proprio bene. Ok, contro Grotl non potrò fare praticamente nulla. Ti maledico. Ti faccio un take call se riesco a darglielo. Ok. Ho solo... Aspetta, ho dato una bella sverla. Allora, vediamo cosa posso usare. Vediamo questa. Cosa hai fatto? Vediamo. Razorleaf. Volevo un po' picchettino provare. Mi hai steso, mi hai steso. Allora, adesso io ho Alonan Graveler. Livello 25 sul 21. Vediamo un po'. Proviamo di nuovo questo. Allora, secondo me se ti faccio un attacco roccia ti spacco la faccia. Più o meno, sì. Uh, che male. È un po' bello. È super effettivo. Eh, lo so che è super. È efficace effettivo, stavo per dire. Lo so, lo so, lo so, lo so. Ma ti sapevo che te l'ho fatto, vai. Ma dai, però. Ho fatto autodistruzione. Ah. Quindi mi sono autoesploso per farti esplodere. Fai schifo, eh. Chi hai adesso? 70? 70, non mi rimasto altro. Ok, allora vai. 70 contro 70. Non ho idea di che cosa faccia il Magherna. Vediamo un pochino. Allora, ha delle mosse ovviamente di volo, di acqua. Fleur Cannon sembra forte. Fantasma è normale. Vediamo questo. Secondo me ti tiro una sberla di quelle pesanti, eh. Vediamo questo. Ok. Ok. Avevo capito bene. Vediamo anche Gear Up. Non ho mai provato questa spelle. Immagino che non attacco, infatti. Lucky Chant. Air Cutter non è molto efficace e io non so cosa sta facendo il mio Pokémon. Devo essere sincero a questo punto. Praticamente, cioè, non è efficace niente. Ti tiro un'altra cannonata e la chiudiamo così. Non è efficace niente con te, ho proprio la sfiga delle sfiga, capito? Beh, tanto mi sa che non c'è la speranza a priori, ma ho mancato il colpo, porca miseria. Aspetta. Ok. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. È andata così. Beh, ragazzi, se non ci esiste, lasciate un bel like. È sempre una volta che il nostro video potete considerare lì da iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.